ciao a tutti amici della soffitta di pippo video collezione ultima parte allora qui abbiamo quella tex quella da z quello che sta uscendo adesso cartonata abbiamo il cofanetto di randog agor e tex in alto di tex qui abbiamo dei cartonati un po di tex copanetti supermiki qui abbiamo stella oro un po di tex tex color carte da gioco mini texoni piccolini qui abbiamo i deluxe della mercury qui altri deluxe della mercury qui abbiamo Redwood Dick poi qui abbiamo speranze e carità maschera nera che è stata interrotta quella della ristampa abbiamo una minissima serie panorama che parker la panina e abbiamo ancora di questo è quello originale abbiamo quella dell'aif storie del west perché abbiamo che un parco è quella della mondatore di cam parker quelle a colori che sono usciti dalla repubblica l'espresso sono quelli a colori preso magazine di tex qui abbiamo i miti simpetex dalla morte delle miniserie grazie carità strisce originali mondo jack seconda serie tomo hawk timbool i vari fascicoli del tex con i personaggi e le statuine qui ancora il mondo adori abbiamo i testi che in quarker magazine altri magazine poi speciali questo qui il trentesimo anniversario qui abbiamo blu berri con la della eura qui altri vari test manuali cosa sono avella e bronco questo cos'è il trentesimo anniversario qui abbiamo tutta la serie di eco sbill abbiamo storia dell'oest arrivate il furia diamo lo bianco la cota e il buon collana arizona e qui abbiamo salvaggio west tra robbie work luco part poi tex foni e altri nomi e un piccolo sceriffo del lardo guardiamo ai protagonisti del west con l'originale tex cartonati a legare portfoglio dopo per esempio signata magnus intervitor un cufanetto, un secondo, Matt Marriott legati, una pelle rossa, un po' di albi di pilot, poi abbiamo il ranger, il cufanetto, i serpenti, il centiro di quella, Edge, tutta la roba vecchia, poi abbiamo l'altra roba che non si ricordo più cos'è, qui abbiamo un cartonato di Magico Vento, un altro cartonato di Magico Vento, qui c'è il falco bianco, l'ultimo dei nuovi cani, il protagonista del West per la Obio World, prima e seconda serie speciali di Tex, quelli della Repubblica, qui sempre il selvaggio West, abbiamo varie serie, ah questa è tutta una serie di avventura del West, sono una 10 serie, tutte le spillattine, abbiamo Texcola della Mercury, qui Tex Gold, qui abbiamo Star West, un cartonato, Perinetta del bambino, Tex Wheeler, il monarchy di Tex, tutto West, Django, abbiamo un libro, Questa è la pace, il fantasma di, ah, le avventure del blu-guerre, abbiamo un po' di diverse di Tex, con i vari vari numeri speciali, qui abbiamo tutta la collana a rodeo, tutta messa dentro, dietro, perché non ci stava, Magico Vento, e questo qua con la Colores, per il Magico Vento, qui abbiamo dei Tex, che non so come si chiama, la collana, che escono, come etteria, qui abbiamo il carton, ah, il confanettino ancora di legna, passetta di Tex e di Drago Nero, poi abbiamo vari cartonati, sempre tutto di Tex, qui sono quelli francesi, che escono in ridicola, qui collocando con Tex, questo qua, veramente Tex, qui sempre tutti i cartonati di Tex, ancora pesce qua dalla Mizzoli, qui abbiamo una serie Western, quella che era uscita dalla Cosmo, Gesù, originale, Rosenger, Alamo, Ocis, Bonser, Durango, Bianco e Coyote, che erano tutti, qui ci si alternavano, Gil, frattuto, sceriffo, fuori legge, argumento, qui è un numero così sciolto, qui abbiamo Maxi Tex, sempre parte dei quali della Mercoli, abbiamo tutta la serie, questa qua di Tex, scartonata, qua sotto abbiamo l'Ombra di Pecosby, l'Ondo, Australia, qua qua Tex a Scowboy, questa qui nata collana di Tex, grandi storie della Repubblica, e poi qui dovevo, ho già fatto vedere tutto, qui dovremmo essere a posto, devo solo far vedere, ah, questa vacheca qui abbiamo, questa squadra gigante, questo è inesonabile, abbiamo le statuine di Diaborik, qui abbiamo le statuine di Tex, e poi, va bene, facciamo qua, ah, qui tutti, tutto Tex, che poi abbiamo i Tex, quali che escono adesso, in medicola, i Tex a colori, ok, e dovrebbe essere tutto, spero che vi siano piaciuti tutti i video che ho pubblicato, e se avete consigli su fumetti che non ho da recuperare, sono ben accetti, grazie a tutti, ciao.